Oggi il turismo a Taranto è irrilevante. Nel Pile di Taranto il turismo incide con meno dell'1%, per cui chiaramente sta proprio in uno stato embrionale. Beh, è chiaro, ogni tanto si vede qualche capannello di turisti, ma è troppo poco, perché come ho già spiegato, si può parlare di un'attività turistica, di uno sviluppo turistico in un territorio, di un'industria turistica, se c'è un flusso di turisti significativi quotidianamente, tutti i giorni, 365 giorni all'anno. Ma parliamo di ferrovia, parliamo di autostrade, parliamo di passeggi di turisti che arrivano con via mare. Beh, per adesso i turisti via mare stanno nei progetti dell'autorità portuale, mi auguro che si realizzano, ma oggi non esistono. Per quello che riguarda il traffico ferroviario e ormai i minimi storici come possibilità di collegamento, noi siamo forse una delle poche città ancora che colleghiamo e portiamo i nostri cittadini a Roma con i pullman. Solo se i tarantini, le imprese, le associazioni, gli enti di Taranto condivideranno un'idea, ma quell'idea di turismo, noi potremo pensare che fra dieci anni potremo dire che viviamo anche di turismo in maniera significativa.